Grazie 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 Salt Salt Glor Muzica Glor Glor Siamo un giugno! Siamo un giugno! Siamo un giugno! Siamo un giugno! Stai a venire a venire! Siamo un giugno! Tutti Non ce l'immagra prima per scopirsi del pahar E anche qui Quaggi che scoprisi Cosa è la tua Cosa è la tua Io disse Cosa è la tua Duri le due la mia Voi le due il mio Bucuretti mamma Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie per la visione!